E' barriere, i muri, se ne parla, esistono, li troviamo attorno a noi. Soprattutto penso che i ragazzi che hanno la maturità in questi giorni ce l'abbiano quasi in testa come terrore, come tema d'esame, chiaramente non azzeccheranno, mai una previsione è stata azzeccata sugli argomenti, ma le barriere ce le troviamo spesso davanti, le creiamo, certe volte ci troviamo noi a nemmeno vederle, a considerarle quasi inevitabili, quasi scontate. Capita anche che le vediamo magari create dagli altri ma che non ci danno fastidio, oppure le creiamo noi stessi, oppure le consideriamo normali, ma le barriere non sono mai normali, le barriere ci isolano, non ci proteggono. Se pensate che una barriera possa proteggervi, sì, magari da quella falsa sensazione di autarchia, quella zona di confort, quel piccolo castelletto dorato, quella piccola fortezza in cui noi ci sentiamo tranquilli. Gli altri da fuori vedono il muro, vedono un bel ambiente, vedono un muro ben dipinto, ma tutto si ferma lì. Pensiamo alle barriere che magari vediamo in un'immagine del genere, che non ne ha. È un panorama, non vediamo confini, non vediamo barriere. Se guardassimo questa immagine dal satellite delle nostre montagne, delle nostre colline, non vedremmo delle barriere. Se guardiamo la cartina, vediamo delle righe tirate magari da storici, politici, cartografi, pensatori, artificiali certe volte, ma che creano ostacoli. Quindi cosa possiamo fare a questo punto per dire, beh, qualcosa, qualche barriera la possiamo superare, vale la pena farla. Vediamo che magari in qualche caso è un aiuto, è un incitamento, una soddisfazione superare le barriere. Arrivati più o meno effettivamente alla mia età media, chiamiamola così, qualche trucchetto effettivamente me lo sono anch'io inventato, nel lavoro, nella vita privata e anch'io magari, come un po' tutti, magari ho costruito, creato qualche ostacolo, me lo sono creato qualche ostacolo. Arrivi in certi momenti in cui magari l'insoddisfazione, il senso di impotenza, anche nel lavoro, ti dice, beh, questa barriera la devo superare, devo fare il salto, devo superare anche i timori, le remore che io stesso magari ho. E uno prova, ci si butta, fa un salto e magari dice, vabbè, guarda, non era poi così brutta come sembrava questa cosa. E uno inizia a caricarsi. La mia, è stata un'idea balzana che era già da un po' di tempo che mi girava in testa, ne parlavo magari a cena con gli amici, ti metti a chiacchierare e non perché magari abbia degli amici particolarmente ben disposti o accondiscendenti nei miei confronti, ma mi dicevano, dai prova, buttati, perché non puoi provare a farla? E a un certo punto uno si decide, si va, si butta, inizia a lavorarci, a metterci la passione, l'impegno, l'entusiasmo e ti butti. Chiaramente lungo il cammino raccogli gli entusiasti, raccogli quelli che ti danno carica, raccogli anche i critici. I critici sono quelli che poi alla fine ti presentano delle barriere a cui magari tu non avevi neanche pensato, che sono anche quelle molto importanti. Il mio salto della barriera lavorativo non è proprio stato semplicissimo, io arrivo da un mondo delle telecomunicazioni, dell'informatica, delle grandi multinazionali e sono passato al turismo. Apparentemente, parlandone con tutti, dicono, beh, è fortunato, è più divertente, è più simpatico, stai all'aria aperta. Sì, è vero, è chiaro che fra una scrivania, un monitor e girare per le campagne è una bella cosa, ma quello che è successo è che ho raccolto storie, ho incontrato gente, ho raccolto del territorio, delle persone attorno a sé. Io sono di Torino, ma ho forti radici qua nelle nostre colline, Monferrato, Monferrato Alessandrino, Astigiano, Langhe, le conosco bene e per i motivi che c'è alle spalle della mia idea abbiamo deciso di partire qua, di iniziare a lavorare su questi territori, perché? Perché il Piemonte, ma non solo il Piemonte, ha soprattutto nel mondo del turismo risorse inesplorate, risorse importanti, risorse umane importanti, risorse umane di gente che ha idee, che ha passioni, che ha voglia di fare qualcosa per il territorio, per sé e per creare una rete. Ho incontrato storie molto belle, ma quelle più di successo, quelle più di importanti erano quelle di persone che hanno aperto aziende agrituristiche, biodinamiche di grande successo, tenute agricole molto belle, sono diventati apicultori, hanno aperto attività di servizio per i turismi proveniendo nemmeno dalla campagna, proveniendo dalla città, proveniendo dal lavoro di dirigente in banca, dirigente di aziende informatiche, responsabili marketing, attori di sopopera, che a un certo punto hanno visto delle barriere davanti a sé nella vita e nel lavoro e hanno deciso di superarle e di dimostrare agli altri che è possibile, che sono aperti al territorio, hanno cercato di creare rete, di inserirsi nella comunità del territorio. Poi andando nel territorio e conoscendo e parlando con le persone vedi che ci sono altre cose, quelle che diciamo che sono piccolo e bello. Piccolo e bello sì, ci sono delle piccole realtà stupende, ben fatte, sia in termini umani che proprio magari fisici, sociali oppure territoriali. piccolo e bello ma certe volte fa rimanere piccolo, mantiene piccolo, non crea comunità vera e propria. Il piccolo certe volte ha alla base una paura magari, ha alla base magari la paura che ci rubino quella piccola idea, che i vicini conoscano quello che noi abbiamo protetto e costruito e che quindi l'anno prossimo facciano qualcosa del genere oppure che quei dodici turisti vadano da loro e non da noi magari. Pensiamo alla proliferazione di Sagra in certi periodi dell'anno, va benissimo, la gente ha possibilità di uscire ma a un certo punto, beh aspetta parliamone, forse se ci mettiamo d'accordo riusciamo a fare qualcosa di veramente bello e interessante. Ho raccolto decine di aneddoti e di cose strane. Mi viene in mente per esempio un proprietario di un agriturismo, di un bed and breakfast nelle nostre colline, mi diceva guarda i turisti vengono qua per la prima volta, vedono questa valletta, un paese dall'altra parte, mi chiedono informazioni, mi chiedono come si chiama, mi chiedono cosa succede, cosa c'è da vedere, quali sono le manifestazioni, le attività e io mi arrangio, mi dice cerco di fare il possibile ma non sempre so tutte le cose che capitano, per un motivo semplice, perché oltre alla valletta c'è un'altra provincia, oppure è capitato un altro paese di 400 abitanti, incontrando le persone mi dicono ah sai qua ci sono ben tre associazioni che fanno attività culturali e eventi su questo paese, facendo un po' di conti 400 abitanti togli i giovani o i bambini disinteressati, gli anziani, quelli che lavorano via, quelli che non sono residenti perché nella seconda casa alla fine rimangono 10-12 persone magari per l'associazione e quindi è piccolo, magari bello, ma rimane piccolo. Poi c'era, forse l'avete visto su internet quel video virale, proprio della barriera classica, quel cancello scorrevole con i cani che si abbaiavano, due gruppi di cani che si abbaiavano fortissimo, il cancello continuava a scorrere, nel momento in cui il cancello si è aperto perfettamente i cani si sono girati e sono andati via. E questo è quello che capita, la barriera ci crea questa sensazione di sono forte, sono bello, ma poi nel momento in cui devo comunicare veramente capita qualcosa di diverso. Quindi pensiamo al contrario invece, pensiamo a quello che può unire e non separare. Pensiamo alle nostre colline, al nostro territorio, ecco ho parlato di Langhe Monferrato, pensiamo ai turisti che vengono qua e gli facciamo vedere le colline, magari parliamo di Alta Langa, Bassa Langa, Alto Monferrato, Basso Monferrato, facessimo un sondaggio, probabilmente i confini a noi non sono chiari, ma i nomi spesso sono ben noti. Pensiamo però allora a questo punto a come possiamo unire quello che certe barriere virtuali o reali hanno diviso. Pensiamo appunto ai sentieri, alle strade, ai percorsi ciclabili, ai percorsi per l'equitazione, pensiamo ai corsi d'acqua anche, quando non fanno danni, pensiamo alle ferrovie, alle ferrovie dismesse, ma soprattutto pensiamo al capitale umano, alle persone che sono sul territorio, con le loro passioni, con le loro voglie. Pensiamo a un artigiano che magari non vuole che il proprio lavoro, il proprio sapere, la propria conoscenza si disperda. Sarebbe ben lieto di insegnare a una famiglia danese una piccola arte. Pensiamo a un erborista che conosce le erbe della zona e quindi fa conoscere il territorio proprio per poterlo vivere meglio. Pensiamo, non lo so, a un fotografo che conosce bene la propria borgata, i propri angoli e porta magari i turisti a fare le foto particolari, un po' uniche. Pensiamo all'insegnante di yoga che magari invece di stare in una palestra rende una vigna un'oase di pace. L'astronomo, dilettante, appassionato, che porta nell'angolo buio della borgata, della frazione, dei turisti a guardare le stelle che in città non sono visibili. Pensiamo quindi a queste cose che ci uniscono, pensiamo a come presentiamo il territorio, presentiamo la nostra terra, presentiamo le nostre colline. un turista quando guarda un panorama come questo e come ce ne sono tanti dalle nostre parti, non vede i confini ma non li vuol vedere, non ha interesse di sapere cosa finisce, come mai non si comunica, cosa capita, lui vede la bellezza di quello che c'è. Proviamo quindi a fare questo salto, proviamo a fare il salto che ci fa passare a dire mi metto a disposizione della comunità, creo questa rete attorno a me, faccio in modo che il mio piccolo si unisca agli altri per crescere. Il mondo del turismo fortunatamente in Italia è un mondo fortunato, abbiamo a disposizione una marea di cose già pronte, abbiamo la natura, abbiamo i beni culturali, abbiamo il nostro territorio nel suo complesso, ma è l'elemento umano quello che lega veramente il territorio e abbatte le barriere e l'elemento umano è sicuramente l'ingrediente fondamentale per abbattere le barriere. Grazie.